La nuova Discovery combina un'eccezionale evoluzione del design con interni versatili e intelligenti e incarna lo spirito di avventura che ha caratterizzato i SUV premium per famiglia durante gli ultimi 30 anni. La nuova Discovery con i suoi potenti ed efficienti propulsori Ingenium Diesel e benzina di ultima generazione, l'avanzato Infotainment PV Pro, il comfort superiore, la praticità, resta uno dei SUV premium più capaci, connessi e versatili del mondo. Grazie alla nuova Electrical Vehicle Architecture EVA 2.0 che sottende una gamma di avanzate tecnologie, la nuova Discovery raggiunge nuovi livelli di raffinatezza, desiderabilità ed efficienza e conserva tutte le capacità tradizionali su strada, al traino e in off-road. La nuova Discovery cura i suoi passeggeri come non mai, come il Terrain Response 2, gli aggiornamenti software over the air e la nuova cabina air filtration. Jerry McGovern, Chief Creative Officer Jaguar Land Rover, ha dichiarato La nuova Discovery è un SUV premium, splendidamente proporzionato e raffinato. Questo veicolo irresistibile e versatile è stato affinato in ogni dettaglio, rafforzandone il carattere esterno e la versatilità della cabina. I Discovery mantiene così la sua posizione di più cavace SUV full-size per la famiglia del mondo. Il carattere deciso e le proporzioni ottimizzate della nuova Discovery abbracciano tre decenni di evoluzione del design. Rimangono tutti gli stilemi del DNA Discovery, come il cofano a conchiglia, il tetto rialzato e il vistoso montante C, ma la nuova Discovery vi porta a una audace evoluzione estrema e una forte presenza su strada. I nuovi fari LED con indicatori di direzione situati in basso nell'unità creano un look più risoluto. Gli indicatori animati danno un tocco di raffinatezza e la presa d'aria frontale in tinta di carrozzeria accentua la linea di cintura del SUV. I paraurti anteriori rivisto presentano una nuova grafica in tinta di carrozzeria e le nuove presi d'aria laterali contribuiscono ad un aspetto più deciso e dinamico. Posteriormente la nuova Discovery monta gruppi ottici LED, congiunti da un pannello trasversale Gloss Black. Il pannello che segue la filosofia riduttiva Land Rover incorpora il lettering Discovery. Il nuovo modello Air Dynamic porta alla nuova Discovery un carattere ed un assetto ancora più risoluto, con una serie di elementi esclusivi di design, inclusi dettagli esterni Gloss Black e Shadow Atlas e rivestimenti dei sedili in belle two-tone e con cinture a contrasto. Internamente la nuova Discovery presenta miglioramenti che sottolineano il posizionamento premium e la realizzazione artigianale della spaziosa cabina a sette posti, che racchiude l'avanzamento infotainment PV Pro. Una console centrale ridisegnata accoglie un touchscreen HD da 11 pollici e 4, più grande del 48% rispetto al precedente, con interfaccia rapida e intuitiva. Il PV Pro con la struttura dei menu semplificata e il design pionieristico garantisce una risposta immediata fino all'avviamento. Una batteria delicata consente di iniziare la navigazione in pochi secondi, mentre la struttura chiara e logica dei menu mette le funzioni più comune a portata di mano, sull'home screen per ridurre la distrazione del guidatore. La connettività è gestita da due modem LTE e Dual SIM, che rendono il sistema multifunzione. Ad esempio è possibile scaricare gli aggiornamenti via SOTA e contemporaneamente effettuare lo streaming musicale, senza detrimento per le prestazioni. La tecnologia SOTA consente di aggiungere fino a 44 moduli elettronici, senza dover visitare la concessionaria. In combinazione con l'Interactive Drive Display da 12.3, l'avanzato sistema impiega mappe 3D in alta definizione all'interno della strumentazione, lasciando libero il touchscreen centrale per i controlli ed altre applicazioni. Gli strumenti digitali ad alta risoluzione possono essere configurati come coppie di quadranti convenzionali, navigazione in 3D a piano schermo o con una combinazione dei due, consentendo al guidatore di ottimizzare il display a seconda delle circostanze e delle preferenze. Inoltre il cliente ha l'opzione del Head-up Display, a colori che mette a disposizione le informazioni su parabresa, consentendogli di rimanere concentrato sulla strada. L'integrazione con lo smartphone è semplice grazie all'Apple CarPlay, mentre il Bluetooth può connettere simultaneamente due telefoni, anche Android Auto e standard, come la ricarica wireless con amplificatore di segnale. Il comfort dei passeggeri è supportato dal Kybin Air Inosination, con tecnologia di filtrazione PM2.5. Questo dispositivo controlla l'area in ingresso, misurandone la qualità e impiega automaticamente sui filtri avanzati per ridurre i livelli di allergeni, tossine e particolari in cabina, migliorando i benessere di tutti gli occupanti. Comfort e convenienza sono offerti anche dai nuovi supporti per Table Click & Go, integrati negli schienali anteriori. Il semplice sistema comprende prese USB-A opportunamente distribuite, utilizzando l'Hallspot Wi-Fi 4G che può connettere fino a 8 dispositivi. Anche i passeggeri delle file posteriori possono godere dell'intrattenimento durante i lunghi viaggi. Il nuovo volante a quattro razze incorpora interruttori Eater Anti-Lit e Paddle del cambio in metallo, mentre il nuovo selettore tattile controlla la trasmissione. Internamente il dispositivo intelligente Seed Fold permette di riconfigurare la seconda e terza fila di sedili sul touchscreen centrale, mentre l'app remote consente di controllare il livello del carburante, dove è parcheggiato il veicolo e può anche bloccare e sbloccare le portiere. La seconda fila di sedili è stata anch'essa ridisegnata per un maggiore comfort. Un miglior sostegno laterale, lo spessore e la lunghezza dei cuscini e l'attento studio delle forme nei sedili contribuiscono a migliorare il supporto per le gambe e la posizione degli occupanti. Il trasferimento delle bocchette di ventilazione della seconda fila, che passano dai montanti B alla console centrale, migliora ulteriormente il comfort, aumentando il flusso dell'aria a disposizione della seconda fila, dove i passeggeri hanno i propri comandi idrenanti LIT per la ventilazione e le prese elettriche. È disponibile in aggiunta al telecomando LACTVTK di seconda generazione, con comandi sul touchscreen, orologio digitale e la capacità di bloccare, sbloccare e avviare il veicolo. La nuova Discovery è disponibile allestimenti Discovery SSE e HSE, in versioni air dinamiche o come pratico modello commerciale con volume di carico da 2024 litri, contenitori con serratura sotto pavimento e la stessa capacità di traino di 3500 kg del resto della gamma. La nuova Discovery introduce tre popoluzioni 6 cilindri in linea Ingenium, benzina e diesel con tecnologia MHEV a 48V prestazionali, efficienti e raffinati. I nuovi motori sono disponibili accanto ai 4 cilindri Ingenium P300 a benzina e con un nuovo sistema all-wheel drive. I 6 cilindri sono stati progettati e realizzati internamente. Il diesel è disponibile con potenze da 249 CV e 300 CV. Il potente benzina eroga 360 CV. La nuova gamma motori, 2 litri 4 cilindri 400 Nm di coppia, 3 litri 6 cilindri, 3 litri 6 cilindri con 570 Nm di coppia, 249 CV e il 300 CV da 3 litri 6 cilindri 650 Nm di coppia. I diesel D250 e D300 6 cilindri Ingenium con la loro struttura in telaio e gli attriti ridotti sostituiscono i diesel SD4 e SDV6. La tecnologia MHEV a 48V assicura che i nuovi e reattivi motori soddisfano i più suveri standard mondiali sulle emissioni. Il sistema, recuperando l'energia normale dispersa in decelerazione e immagazzinandola, è pronta per riutilizzarla nelle partenze e nelle accelerazioni. Con le performance dei 6 cilindri e l'efficienza di un 4 cilindri. Il sistema consente anche una maggiore raffinatezza del sistema start and stop. My Cross Chief Engineering Vehicle Integrity di Land Rover. La nuova Discovery combina la geometria oltre rende le sospensioni, l'eccezionale dinamica e l'eccellente controllo della scocca, mantenendo anche le famose qualità di marcia e il comfort di SUV per famiglia. Con le avanzate sospensioni, l'architettura in alluminio e la trazione intelligente, abbiamo realizzato un SUV a 7 posti altamente versatile e capace di incremento raffinato e coinvolgente da guidare. La nuova Discovery è equipaggiata con la funzione Clear Sight Ground View, che rende il cofano invisibile, proiettando sul touchscreen centrale le immagini delle telecamere, che offrono al guidatore una visuale a 180 gradi del terreno, sotto il frontale del veicolo. Questo concetto futuristico del cofano trasparente assiste sia in off-road su pendenze impegnative sia per evitare ostacoli nascosti in città.